Questo qui è del gatto, sono degli stick drogati per curare l'Alzheimer dei gatti, mela, arancia, colazione, mandorle, ne rimarranno a metà, ricordate di fare una telefonata importante, yogurt, aloe vera, buona, un po' di latte di capra, non guardare mai troppo da vicino il tempo perché ti porta via e ti brucia il tempo per i familiari, poi consiglierei una fusione di decaffinato e questo, li conosci, e colazione è andata. Poi a metà mattinata un toast con mozzarella normale perché uso anche altro, un cotto, in genere ne metto due, ne metterò uno perché non farò tanta bici. Acqua sponsorizzata, ho la Sant'Anna piccola normale che regalano due bottiglie su sei, e un riveto che mi regala un pancale ogni due mesi, se la faccio vedere. Questa è la bandana che mi metto sopra i capelli, oggi ce l'ho belli, fluenti, non te li faccio vedere. Là c'è una banana di supporto che mi prendo dietro se ho dei cali e il pusace fa bene. Il miele non è mio ma è di nonno, l'arancia uguale. I sis che vedi sono dei gel particolari, proteici, che mi fanno bilanciare se ho dei cali di zuccheri, che insieme alle maltodestrine, che ho sempre dietro insieme all'acqua, con quelli lì praticamente compenso se ho degli attacchi ipoglicemici in tempo reale, in due minuti ce l'ho nel sangue. Poi mi manca la mascherina bianca perché non serve, però non ho la rossa, ma se andiamo a defluire e scalare, o comunque da nera a arancio a gialla, e la gente gradisce il fatto che io metta una mascherina secondo il colore. Siamo in rosso e io metto la nera, ma poi metto la gialla. E dice, ma perché la gialla se siamo poi in arancia lunedì? E gli dico, perché sono un po' avanti, cerco sempre di essere un po' avanti, perché nel mio lavoro è importantissimo essere avanti. Scusa se sono stato lungo, un bacio, ti voglio bene, babbo.